bella raga dal vostro grande capitan napoli benvenuti in questo nuovo video è sempre forza napoli con sette rubriche in questi giorni parliamo di calciomercato da come sembrerebbe da fonda fonte attendibile fabio ruiz non vuole rinnovare il contratto con napoli in scadenza se non sbaglio nel 2023 quindi anche per un discorso tattico che non sta assolutamente rendendo un giocatore riconoscibile sembrerebbe che lui voglia andare via o al barcellona real madrid c'è anche l'interessamento focche dell'atletico madrid molto difficile che vada via già a gennaio per poi rimpiazzare con giocatore perché non è adatto nel 4 2 3 1 di due centrocampisti centrali ma sarebbe più adatto di un 4 3 3 a mezz'anni comunque da come vega dalle prestazioni da quello che ha dichiarato lui vuole andare via più probabile che vada via in estate per una cifra intorno ai 50 55 milioni comunque staremo a vedere questi soldi serviranno per risanare il bilancio e comprare un tipo di giocatore più adatto al tipo di modulo che si vorrà ovviamente oramai adattare per la prossima stagione 21 22 ditemi cosa ne pensate nei commenti e con quei soldi che tipo centrocampista o quale centrocampista andrete a comprare al posto di fabio ruiz oppure se vorreste tenere lo stesso a fabio ruiz mettete un bel anche questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale un buon prossimo amico di giornata dal vostro grande capitano napoli sempre forza napoli ciao ciao